Musica Bonetti, Bonetti posizione regolare, filtrante verso Guagni, Guagni da solo in area, Guagni da cacca ma... 1 a 0, viola, ha segnato Patrizia Caccamo, 1 a 0, tutti in piedi per la Fiorentina, 1 a 0, Patrizia Caccamo, entusiasmo alle stelle. Guagni lanciata sulla fascia, va a seguire il pallone, ci arriva di sicuro, area Guagni nel mezzo, verso Bonetti che arriva di testa! 2 a 0, Tatiana Bonetti, a 2 a 0 della viola, lancio della maglia, è 2 a 0, Fiorentina, Tatiana Bonetti che peraltro raggiunge Clellano adesso in classifica marcatrici. Non posso saltare! Saldi nel cuore! Eh, cacchio che potta di vita oggi! No guarda, l'importante risultato ce l'abbiamo fatta e... Quando è entrata che cosa hai provato? Non lo so, mi sentivo disorientata, non capivo niente e... Vai, vai! Arrivano, arriva! Risultanza clamorosa, cartina giallo più bella della tua vita! Sì, no, no, l'ho preso proprio voluto perché qua non potevo fare un'esultanza sobria, cioè, è stato bellissimo, è un sogno che si avvera e l'ho fatto ieri sera, l'ho fatto durante tutto l'anno, quindi sono veramente la persona più felice. E di nuovo, grazie a tutti quanti, forza Viola! Siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi, 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 siamo noi... Abbattissime emozioni, non avevo nessun dubbio che ci avrebbero sostenuto, e all'inizio per le ragazze è stato anche molto emozionante, si vedeva, però appena poi ci siamo un po' sbloccati, non avevamo nessun dubbio che abbiamo regalato questa grande soddisfazione, perché qui c'è uno scudetto a Firenze, per un fiorettino o meno, ne parliamo. E poi, oltretutto, devo ringraziare, lo divido con il mio staff tecnico, con Antonio Cincotta, con Nicola Melani, con Fabio Barducci, perché abbiamo lavorato dal primo giorno fino ad oggi, senza mai mollare niente, senza mai, e ce lo strameritiamo. Un'emozione indescrivibile, si vince un campionato in una città meravigliosa, con una storia fantastica, un club con una tradizione gloriosa. Credo di essere una persona fortunata di essere qui in questo momento, e credo che queste ragazze meritino ciò, perché non hanno mai fatto una sbavocina. Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi! Grazie! Grazie!